E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo messimo video, primissimo video del 2018 Allora, voi fate i video su YouTube e avete comprato una bellissima camera Però, sto utilizzando il microfono della camera stessa L'audio del microfono che sentirete sarà questo di qui Quindi adesso io voglio far vedere la differenza tra un buon microfono e il microfono della camera Con il microfono del cellulare, un microfono lavalier a pulce, il Rode, video micro E io voglio far vedere anche la differenza di un microfono di 2€ Raga, questo di qua costa 2€, comprato su Aliexpress, ma lo trovate anche su Amazon Vi metto il link qui sotto in descrizione Comunque vi metto il link in descrizione di tutti questi prodotti Questo di qua tipo 5, ne comprate con 6€ o una cosa del genere Quindi adesso vi faccio vedere un po' la differenza tra i vari microfoni Attenzione, io non sono un fonico e vi voglio raccontare un po' la mia esperienza Ecco, comunque ragazzi, vi voglio far vedere la differenza tra un microfono da 50€ della Rode e questo qui Questo di qua non si può collegare direttamente al cellulare perché ha un jack, un mini jack diverso Quindi adesso faccio la prova, collego questo di qui direttamente alla camera Ecco qui ragazzi, questo di qua è l'audio che sentite direttamente dal microfono da 2€ E questo di qua è l'audio che sentite con il microfono da 50€ Che è però collegato al mio cellulare che sta registrando Non so se vedete, no, non lo vedete Quindi adesso vi voglio far vedere, voglio anzi far sentire l'audio Ecco qui, questo di qua è l'audio che sentite dal Rode VideoMicro Che è un mezzo difficile che si attacca direttamente alla camera Voglio far vedere anche la differenza con un microfono a condensatore che è questo di qui Che è il microfono più comprato su Amazon E' quello che vedo di più su YouTube Perché questo microfono di qui si alimenta tramite l'USB Adesso vi voglio far sentire la registrazione direttamente con il cellulare Con il microfono del cellulare che tutti avete Ecco qua, questa di qua è la registrazione direttamente con il cellulare Che comunque il microfono del cellulare non è male Perché non è minimamente pregonabile a un microfono a condensatore Però ragazzi, per iniziare va benissimo Perché ognuno ha il cellulare quindi con zero spesa Avete un audio ben pulito Adesso vi faccio sentire di nuovo l'audio direttamente dalla fotocamera E quindi ragazzi, per oggi è tutto E noi ci vediamo a un prossimo video Ciao 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 Ciao